E' iniziata la maratona intercomunale per realizzare lo svincolo autostradale a Gioio Samarea. Si punta a rafforzare l'iniziativa della progettazione e realizzazione dello svincolo nel sito del torrente Zappardino tra le gallerie Calavà e Petraro. Agli atti c'è uno studio di fattibilità che risale all'aprile 2016 sul quale il Consorzio Autostrade ha già dato l'ok. Il Consiglio Comunale a più riprese aveva sollecitato l'istituzione di un coordinamento con i comuni di Patti e Piraino per rafforzare la proposta di realizzare lo svincolo. Il Presidente del Consiglio Comunale Maurizio Adamo aveva inviato una specifica istanza già ai rappresentanti dei Consigli Comunali di Patti e Piraino mentre già a Gioio Samarea era stata istituita una commissione permanente della quale fa parte lo stesso Adamo e i capigruppo di maggioranza ed opposizione Vincenzo Amato ed Eduardo Spinella. L'interlocuzione del Presidente Adamo ha dato i suoi frutti se è vero che il 25 giugno scorso si sono riuniti presso l'Aula Consigliare del Comune di Gioio Samarea tutti i soggetti del coordinamento oltre a Maurizio Adamo, Vincenzo Amato ed Eduardo Spinella anche Mauro Aquino e Nicola Mollica Sindaco e Presidente del Consiglio Comunale di Patti e poi Maurizio Ruggeri e Maria Miragliotta Sindaco e Presidente del Consiglio Comunale di Piraino. Chiederanno un incontro urgente al Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e all'Assessore regionale alle infrastrutture e mobilità Marco Falcone per intraprendere tutte le azioni necessarie e utili alla realizzazione dello svincolo. Già oggi ci sarà un primo incontro a Palermo con l'Assessore regionale Marco Falcone. Nel documento che è stato firmato ed inviato a Palermo è stato ricordato come la Statale 113 costituisca il più importante collegamento viario al servizio del centro urbano di Gioio Samarea sia nel tratto compreso tra Gioio Samarea e lo Scoglio Nero, lato Messina, tra Gioio Samarea e la Torre delle Sciavole e lato Palermo. Ci sono state numerose interruzioni per frane determinando per questo il sostanziale isolamento di Gioio Samarea.